perché il caciocavallo podolico è diverso dagli altri? è diverso dalla razza di bovino che si chiama podolica anche perché prendiamo poco latte sulle podoliche perché fanno meno latte molto meno latte più buono però di meno molto buono ma poco molto buono una podolica fa 5-6 litri di latte una vacca che stessa alla fa 50 litri di latte, quella è una differenza. Questo significa che questo è più per passione che per l'economia in sé perché se uno pensa all'economia questo non lo può fare fa l'altro caciocavallo è più facile ho avuto molte proposte per i canali supermercati ma anche perché le quantità sono molto limitate se c'erano molte quantità